Allora, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Allora, per prima cosa risponderò a un'antica questione, che però torna sempre fuori, e quindi sento il bisogno di ribadirla ancora una volta, cioè è la questione relativa all'innesto dei cronografi. Come sapete c'è l'innesto laterale, c'è l'innesto verticale, c'è l'innesto a pinione oscillante, e io, molti continuano a chiedermi, ma è preferibile un innesto o l'altro? Ecco, io ho un'opinione molto precisa e molto decisa su questo. Sono e sarò sempre a favore, solo e unicamente dell'innesto laterale. Adesso cerco di spiegarvi il perché, perché sono diversi motivi, motivi tecnici, sono motivi filosofici, cioè che si rifanno all'utilizzo del cronografo e alle ragioni del suo fascino e del suo utilizzo, e sono anche dovute ad alcuni luoghi comuni che si sono diffusi. Allora, l'innesto laterale, anzitutto, io credo che oggi sarebbe da mettere su tutti i cronografi. Perché? Perché oggi, sempre di più, l'orologeria è un... meccanica è un bene non essenziale. No, perché a indicare il tempo, ci sono orologi elettronici, quarzi, smartwatch, ci sono gli smartphone, i computer, eccetera. Quindi oggi non abbiamo più bisogno di sapere l'ora dall'orologio necessariamente. Poi è un piacere farlo da un orologio. Ma non è più l'unica fonte dell'ora. Quindi, è chiaro che la meccanica deve essere bella. Allora, è evidente che l'innesto laterale, soprattutto sui calibri manuali, ha una bellezza che nessun innesto verticale potrà mai donare. Ma ci sono altre ragioni. Un luogo comune che si è diffuso dice che l'innesto verticale più efficiente nel trasmettere l'energia è assolutamente e totalmente sbagliato. C'è uno studio fatto da Farina e altri. Stefano Farina è un dirigente d'azienda, grande collezionista di cronografi, che su alcuni cronografi evidenzia che, appunto, l'innesto verticale non è più efficiente nel trasmettere l'energia. Anzi, l'efficienza è paragonabile. Ma in alcuni casi sembra persino che l'innesto laterale sia persino un po' più efficiente, almeno su alcuni cronografi. Lo stesso Giulio Papi, parlando con me e parlando della questione, mi aveva detto che effettivamente anche lui non riteneva l'innesto verticale più efficiente. C'è un unico vantaggio all'innesto verticale, in realtà, rispetto all'orizzontale, che è il fatto che si possa tenere il cronografo continuamente in funzione senza provocare l'usura dei denti della ruota conduttrice e della ruota centrale dei secondi cronografici, cosa che avviene sui cronografi o innesto laterale, in cui quest'usura, se si tenesse costantemente in funzione il cronografo, ci sarebbe. Ecco, però io questo non lo vedo come un vantaggio, lo vedo come uno svantaggio. Cioè, intendiamoci, un cronografo o innesto verticale, proprio perché può essere tenuto sempre in funzione, è più facilmente regolabile in termini cronometrici, perché se lo si tiene sempre in funzione non c'è la variabilità dettata dal capriccio dell'uso della funzione cronografica. Ma avere sempre una lancetta cronografica di secondi in funzione, un contaminuti, un contahori in funzione, che al momento si possono, con una sorta di funzione flyback, azzerare per far ripartire, in caso serva una misurazione, io trovo che tolga molto fascino al cronografo. A me piace molto il cronografo sui orologi meccanici, sia per la bellezza dei movimenti manuali, ma è appunto la bellezza di vedere lo smistamento della ruota-colonne sul funzionamento delle leve sulla ruota-colonne e sull'innesto laterale. Ma io trovo che il fascino del cronografo sia proprio il pensare che il tuo orologio ha una parte che è sempre in funzione, che è la parte del tempo, poi c'è una parte di meccanismi di leve, di ruota-colonne, di ruote, che sta ferma e si mette in moto solo quando è per il tempo che decidi tu. Di freni, perché il cronografo è abbastanza complesso come meccanismo, un cronografo semplice è già molto complesso e sta fermo e quando tu hai bisogno di una misurazione la fai mentre l'orologio continua a funzionare normalmente. E questo secondo me è il fascino. Un cronografo che è sempre in funzione per me perde questo aspetto che fa parte di quello che a me piace pensare di un orologio meccanico, un meccanismo complesso in cui c'è una parte che funziona solo su tua richiesta e per la durata che tu vuoi. Ecco, questo viene meno. Poi l'altro vantaggio dell'innesto verticale è l'eliminazione del saltino. Allora, cos'è il saltino? Lo sanno quasi tutti, ma tanto vale ripeterlo. Il saltino è quell'effetto visivo indesiderato che si ha quando si fa partire un cronografo all'innesto laterale talvolta quando i denti delle ruote, della ruota conduttrice, della ruota dei secondi centrali cronografici si incontrano. Ovviamente, essendo un innesto che avviene lateralmente, è chiaro che i denti possono anche scontrarsi fra loro e questo determina un avanzamento minimamente irregolare della prima fase della corsa, proprio una specie di piccolo salto della prima fase della corsa appena si avvia il cronografo. Incide questo molto sulla precisione? No, no, assolutamente no, perché poi in realtà accelera quel saltino, se è piccolo, accelera un po' la partenza, ma bisogna tenere presente che comunque quando si fa partire un cronografo anche senza saltino, l'arancetta si muove, quindi bisognerebbe calcolare la differenza di velocità di avanzamento in quel primo brevissimo tratto. Certo, su cronografi che non fanno la revisione da tempo, il saltino è più forte e infatti questo è uno degli indicatori, secondo me, che ci dicono che quei cronografi hanno bisogno di una revisione, oltre alla classica misura dell'ampiezza del bilanciere nelle varie posizioni, secondo me, è anche, nel caso del cronografo a innesto laterale, anche l'entità del saltino, perché se il saltino è sporadico ed è veramente brevissimo, allora non c'è bisogno di revisione. Se il saltino diventa più marcato, mi è capitato di vedere dei cronografi con dei saltini, non voglio dire diventati saltoni, non si dice nemmeno, ma grossi salti, no, allora lì serve una regolazione e si fa in genere in sede di revisione in cui... Quindi c'è questo aspetto, ma io sono disposto ad accettare questo aspetto in cambio del resto. Ma poi ci sono anche altre ragioni che mi spingono a preferire l'orologio a innesto, il cronografo a innesto orizzontale rispetto a quello verticale. Cioè il fatto che è più costoso realizzare un cronografo a innesto orizzontale, perché serve quasi sempre una regolazione anche manuale, che per carità non è che richieda in un orologiaio esperto tanto tempo, però intanto non è un'operazione che si può standardizzare se si vuole un cronografo con ridotto saltino e che funzioni veramente bene, che abbia degli innesti dolci. Cioè richiede la mano dell'uomo, l'occhio dell'uomo, e dell'orologiario esperto. L'innesto verticale è più costoso nella progettazione, ma nella produzione non ha bisogno di questo tipo di regolazione. Ma ancora, in fase di revisione, l'innesto verticale è una sorta di blocchetto che viene preso, tolto, buttato via perché costa poco e sostituito con uno nuovo. Anche questo, se proprio dobbiamo essere fedeli, all'idea della coevità dei pezzi di un orologio come misura del valore di quell'orologio nel vintage, non mi riferisco solo al valore monetario, ma anche collezionistico, non ci siamo perché non si dovrebbe mai cambiare un pezzo, si dovrebbe ristaurare al limite un pezzo, revisionare un pezzo, ma nell'innesto verticale conviene fare questo, nell'innesto orizzontale invece si riparano i denti, se vanno riparati, insomma, è un'operazione meno sostitutiva, questo è poco ma sicuro. Quindi anche da questo punto di vista ritengo superiore l'innesto orizzontale. Infatti, poi, devo anche dire che se si guardi il listino delle case di alta orologeria, questo lo sia, capisce anche. il cronografo innesto laterale è negli orologi di fascia superiore, negli orologi di fascia più bassa hanno tutti l'innesto verticale. A me dispiace, perché ho già detto tante altre volte che quella fascia più bassa è importante per coloro che iniziano la passione, iniziano ad interessarsi all'orologeria. E quindi a me piacerebbe che già loro potessero avere un innesto orizzontale, anche perché se ho detto che è un po' più costoso da realizzare, ma non sono costi pari ai prezzi che vengono fatti pagare. Cioè per me oggi, ad oggi, tutti i cronografi che costano almeno 1500, che vengono venduti a un listino almeno di 1500 euro dovrebbero avere vuota colonne e d'innesto orizzontale. Tutti? Tutti. E ci starebbero largamente. E in questo modo si attirerebbe la passione più facilmente dei nuovi utilizzatori. Perché è indubbiamente vedere un cronografo, vedere cosa succede alle leve quando si azionano i pulsanti è molto bello alle leve e alle ruote e questo con l'innesto verticale non si vede. Quindi o si vede veramente poco. Quindi per chi mi chiedeva questo, questa è la mia risposta che spero soddisfi. poi uno invece ritiene il saltino intollerabile e ritiene che non gliene importi nulla del fatto che il cronografo sia sempre in funzione e non gli importa nulla di avere una bella visione del movimento dietro e di quello che succede beh allora può passare tranquillamente in mente l'innesto verticale ma io vorrei i cronografi tutti orizzontali e sono fatto così. Poi in realtà c'è un cronografo di cui ora vi mostrerò le foto fatto da De Betune che ha per ogni indicazione cronografica un innesto diverso quindi c'è praticamente ci sono tutti e tre i tipi di innesto c'è quello per i secondi c'è quello per i minuti cronografi c'è quello per le ore cronografiche si chiama maxi crono ora vi faccio vedere alcune foto questo cronografo come vedete ha tutte le indicazioni concentriche centrali cioè concentriche a ore e minuti e questo un po' secondo me ne perturba la leggibilità invece dell'Agen Graf che ha le indicazioni centrali ma sono separate quelle cronografiche da quelle di ore e minuti che sono più esterne qui vedete il calibro da cui non si vede niente praticamente del cronografo molto poco e questo è il calibro della versione non tourbillon perché dovete sapere che Debetunner fare questo cronografo comunque molto esclusivo fece un grossissimo errore perché lo propose solo nella versione con tourbillon vi posso immaginare il prezzo astronomico che poteva avere questo cronografo e quindi nella versione tourbillon era inavvicinabile facendo poi solo il solo crono era già molto più ragionevole il costo seppur sempre veramente come ahimè capita molto alto veniamo ora a un'altra questione che turba molti appassionati per secondo me in maniera assolutamente ingiustificata è meglio l'integrato o il modulare? dobbiamo intenderci negli anni 40 la grandissima azienda Movado che faceva splendidi orologi splendidi anche meccanicamente fece un cronografo chiamato M95 che è stato il primo modulare della storia cioè prese una base solo tempo e fece un modulo aggiunto credo sotto il quadrante che conteneva l'insieme delle delle componenti cronografiche allora questo modulo non aveva nulla di economico anzi era un'opera ingegneristicamente mirabile perché molto spesso i moduli sul piano della progettazione e dell'ingegneria sono opere mirabili per far funzionare bene le certe complicazioni il problema è che i moduli che vengono montati oggi solitamente vengono montati su una base età o sellita ma soprattutto questi moduli sono oggi prodotti dalla Dubois De Prats che era quella che fece anche il modulo per il cronografo di fatto Buren uno dei primi automatici della storia insieme allo Zenith il primero c'era il movimento Buren Hamilton Breitling e non mi ricordo più chi età Goyer e lì il modulo fu fatto fu presa una base Buren con micro rotore e il modulo fu fatto dalla Dubois De Prats e tra l'altro in quel caso il modulo era girato cioè si doveva applicare sulla base tempo girato in modo tale che i pulsanti cronografici fossero dall'altra parte notare che l'attagoio in particolare ebbe il coraggio nelle sue pubblicità di dire che in realtà quella posizione di quei pulsanti sul lato sinistro era stato voluto perché essendo automatico la corona doveva stare dall'altra parte perché non si azionava mai una spiegazione assolutamente insopportabile insopportabile assolutamente non 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 accettabile e perché in realtà era una necessità tecnica non era una scelta la Dubois De Prats poi ha continuato a fare moduli ne fa ancora oggi per tante complicazioni ma il modulo cronografico che normalmente viene usato è fatto di lamierino stampato è di una bruttura e di un'economicità pazzesca per cui poi quando questi orologi vanno in revisione si prende sto modulo si butta via perché costa niente e insomma non è una bella realizzazione è invece una bella realizzazione avere un cronografo che nasce dalla base già come cronografo e non come base solo tempo a cui si aggiungono dei pezzi a questo proposito voglio fare anche luce su una questione che ha riguardato Giulio Pappi che fece molto discutere anche me cioè Giulio Pappi un giorno disse su Orologi e Passioni su cui ogni tanto scriveva disse che in realtà per lui c'era un solo cronografo veramente integrato che era il 1185 di Friedrich Piguet montato anzitutto da Blampenne e da Breguet ma anche montato da tantissime altre case perché perché secondo lui per stabilire se un cronografo è modulare o meno bisogna vedere se le componenti cronografiche sono allo stesso livello del bilanciere o meno allora questo tipo di argomentazione può avere una sua logica perché certo uno potrebbe anche supporre che si aggiungono dei componenti dietro quindi sopra su un piano superiore rispetto a dove si trova il bilanciere e si aggiungano delle componenti sotto il quadrante e in questo modo si faccia un cronografo da un solo tempo ma lui lo sosteneva in un'altra chiave cioè dicendo integrato è quel cronografo è quel movimento che non funzionerebbe se si toglie la parte cronografica io contesto questa affermazione sono convinto che Giulio Papi non abbia ragione in questo caso perché? perché quello che a me importa della differenza fra cronografi fra modulare e non modulare nella cronografia non è se i componenti sono allo stesso livello del bilanciere o meno ma se il movimento nasce dall'inizio come cronografo o meno e anche se alcune componenti sono su un livello superiore un al primero nasce dall'inizio come cronografo e solo come cronografo non prende una base solo tempo così potrei citare una quantità sterminata di cronografi perché gli integrati sono molto più numerosi dei modulari per fortuna aggiungo io però lui poi secondo me in questa affermazione era anche influenzato dal fatto che vendendo Demar Piguet costosissimi Royal Oak offshore con calibro base il pessimo di manifattura 3.130 con il modulino De Bois de Brazza oltre 30.000 euro per me è una vergogna uno scandalo assoluto evidentemente lui in questo modo difendeva anche la sua azienda oggi come sapete due anni fa tre anni fa Odemar Piguet ha finalmente presentato il primo suo cronografo di manifattura integrato che l'ha montato sul code 1159 si spera che al più presto lo montino sugli Odemar Piguet Royal Oak offshore che finalmente avranno un movimento un po' più all'altezza del prezzo anzi decisamente più all'altezza del prezzo visto che il nuovo cronografo ha innesto verticale ma è comunque un signor cronografo rispetto rispetto a quello a quello schifo di prima quindi ecco questo anche volevo volevo precisare ora invece vi farò vedere un altro cronografo eccezionale che è di mia proprietà e che ha avuto un'importante evoluzione tecnica abbastanza recentemente si tratta dell'Hangenzone double split dunque cos'è allora innanzitutto partiamo dallo spiegare cos'è un cronografo rattrappante per chi non lo sapesse la parola rattrappante è il participio presente in italiano di rattrappé che è un verbo francese che vuol dire raggiungere infatti la lancetta rattrappante è una lancetta dei secondi cronografici che si aggiunge alla lancetta dei secondi cronografici normali quindi che sono due lancette che normalmente sono sovrapposte quando si aziona il comando della rattrappante che può essere aggiunto di solito a ore 10 oppure meglio ancora coassiale con la corona la lancetta rattrappante si ferma che senso ha fermare una lancetta mentre il cronografo continua a funzionare continua la lancetta dei secondi cronografici ad andare avanti beh ovviamente per tenere fermo un tempo intermedio ovviamente sui orologi rattrappanti con una sola lancetta rattrappante la funzione rattrappante funziona per soli 60 secondi perché l'unica rattrappante è la lancetta dei secondi ripremendo il pulsante del cronografo della rattrappante la lancetta istantaneamente raggiunge quella cronografica e se è ancora in funzione continua la corsa sovrapposta a quella cronografica quindi quindi per questo si parla di funzione rattrappante ora un cronografo rattrappante è sicuramente molto più complesso di un cronografo normale perché ci sono più componenti c'è ovviamente una seconda ruota che è sovrapposta a quella dei secondi cronografici oppure messa sotto non mi ricordo più sopra o sotto ma soprattutto c'è un'altra ragione anzitutto la sua costruzione richiede questo gioco delle due lancette che si sovrappongono che poi una si ferma mentre l'altra continua a correre poi ripremendo la raggiunge istantaneamente prosegue la corsa è qualcosa che richiede una precisione di esecuzione molto alta e poi ci deve essere un freno che frena una delle due ruote dei secondi cronografici ora e naturalmente la stessa pinza lascia la ruota dei secondi cronografici ora Langenzon quando ha presentato il suo primo rattrapante ha deciso di spingersi molto oltre cioè di estendere moltissimo l'uso dell'attrapante facendo un orologio chiamato datograph double split anzi double split soltanto questo cronografo è un cronografo che per la prima volta al mondo ha due lancette rattrapanti cioè oltre ai secondi rattrapanti c'è la lancetta rattrapante dei minuti cronografici quindi in realtà questo come si può ben capire estende anzitutto la funzionalità del rattrapante nel senso che può essere condotta oltre il minuto ma può durare per la durata del contatore dei minuti cioè 30 minuti quindi estende molto l'arco temporale in cui si possono prendere tempi intermedi ma associata poi addirittura al flyback che funziona su entrambe le lancette su quelle rattrapanti e su quelle cronografiche semplici abbiamo delle funzionalità del tutto inedite per cui addirittura giocando con i tasti si può tenere un tempo di riferimento supponiamo ecco supponiamo una corsa non so di atleti ogni atleta viene misurato si può tenere un tempo di riferimento decidere per esempio di tenere sul cronografo un tempo fermo non so del migliore quello che ha percorso il tratto in meno tempo e a quel punto si fanno tutte le misurazioni successive tenendo fermo il tempo migliore poi se c'è un tempo che batte che è più breve di quello fino a quel momento migliore si può sostituire cioè tenere fermo quel tempo e cronografare con l'altro quindi è un'estensione notevolissima ed è una complicazione immensa perché poi il contatore dei minuti è anch'esso saltante esattamente come il contatore dei minuti rattrapante è anch'esso saltante esattamente come il contatore dei minuti cronografici normali e in più c'è il problema che si devono raddoppiare i meccanismi isolatori e qui veniamo alla questione più interessante sul piano meccanico secondo me dei rattrapanti cioè i meccanismi isolatori cosa sono a cosa servono quando si schiaccia a cronografo in funzione si schiaccia il pulsante della rattrapante noi come ho detto abbiamo la pinza freno che frena una delle due ruote dei secondi cronografici quella rattrapante ora cosa succede che l'altra continua a funzionare e è chiaro che questo crea un'azione di strisciamento cioè c'è una parte di energia che viene sprecata perché ci sarebbe diciamo così il freno impedisce alla ruota di muoversi e crea quindi una resistenza rispetto alla ruota che continua invece a girare l'altra ruota che è libera invece di girare e questo potrebbe nuocere moltissimo sia in termini di consumo energetico sia in termini di precisione del rilevamento ma anche in termini direi di usura non è certo una bella cosa e allora i cronografi rattrapanti più sofisticati hanno dei meccanismi isolatori cioè hanno dei meccanismi che fanno in modo che quando la funzione rattrappante è attivata quando cioè viene fermata la lancetta o nel caso del double split le due lancette ci sono due meccanismi isolatori che isolano una ruota dall'altra ed è un fatto importante fondamentale per il funzionamento di un cronografo rattrappante quindi c'è questa maggiore complessità meccanica e l'altra grande qualità del double split è che di tutti i rattrappanti che ho avuto ne ho avuti diversi è sicuramente quello che funziona meglio cioè è a prova di errore mentre invece con i rattrappanti tradizionali anche quelli fatti meglio per esempio un Venus 179 degli anni 40 che è molto bello da vedere ma il suo problema è che basta un niente perché si inceppi mentre invece il double split è assolutamente lo puoi manovrare come voi che non devi andare dall'orologiario e non è un vantaggio da poco adesso vi faccio vedere il double split ecco questo è proprio l'esemplare il mio possesso è in platino il quadrante nero adesso le lancette sono tutte azzerate come vedete a ore 12 c'è un indicatore di riserva di carica utile perché il calibro è manuale ma quando il cronografo è in funzione ovviamente se si sta misurando un evento lungo può essere interessante sapere se si deve ricaricare manualmente o meno per non interrompere la misurazione qui lo vedete con le lancette tutte non sovrapposte quindi vedete la particolarità che oltre alla lancetta dei secondi cronografici rattrappanti c'è una lancetta dei minuti rattrappanti cronografici vi dico subito questo orologio è un orologio che come vi farò vedere tra poco ha un calibro meraviglioso rifinito a mano benissimo molto complesso ecco ne avete un altro esemplare il problema di questo orologio è che misura 43 mm di diametro ma è spesso oltre 15 e le casse in platino di Langenzon sono tedesche molto massicce e poiché il calibro è anche molto grosso e ha tanti componenti è veramente pesante questo orologio al polso io faccio fatica a portarlo sono sincero quindi è proprio un problema di peso andava preso in oro rosa non in platino ma questo è un altro discorso ora vediamo la sua evoluzione il triple split vediamo naturalmente che il quadrante è diverso perché ore 6 è stata spostata la riserva di carica e ore 12 c'è l'indicatore delle ore cronografiche che anch'esso è sdoppiato quindi il nome triple split è spiegato ci sono tre raccette rattrapanti quindi tre meccanismi isolatori eccetera eccetera il suo aspetto è molto simile a quello del double split per questo vi propongo queste foto ugualmente ci sono le due ruote a colonna l'unica differenza è che la colonna la ruota a colonna rattrapante qui è un po' spostata mentre sul double split è proprio sopra il bilanciere e come vedete questo calibro sembra una città con i diversi livelli è complessissimo è rifinito da dio tra l'altro questo triple split è più meno spesso del double split cioè l'hang è anche riuscito a ridurre lo spessore pur aumentando la complessità quindi il miglior cronografo il più complesso cronografo rattrapante ora sul mercato senza dubbio ecco con questo penso di aver veramente terminato il capitolo cronografi cronografi almeno attuali di avervi fatto vedere tutti i modelli più particolari più sofisticati presenti sul mercato credo di non averne dimenticato nessuno no in realtà ci sarebbero i richard mille fatti da giulio papi con tourbion però in sé non è il meccanismo cronografico più complicato è l'aggiunta di un tourbion peraltro anche l'hang fa il datograph perpetuo al tourbion che non è un rattrappante ma il calendario perpetuo sotto il quadrante e ha un tourbion che si vede dietro il meccanismo del datograph è già molto bello il datograph con tourbion penso che sia probabilmente il più bel movimento cronografico proprio di estetica e favoloso hanno ridotto la parte le dimensioni della parte cronografica per farci stare un magnifico tourbion col ponte col diamante non si può chiedere di più penso vi metto una foto finale grazie e al prossimo video grazie